La Cina ha quasi abolito la povertà. Infatti la cosa più importante che la Cina è riuscita a fare è riuscita a far uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà. Cosa dite? Non è vero. Beh, dovreste spiegarlo al compagno d'Alema. Sì, perché la sinistra italiana continua a sollazzare il governo comunista cinese una vera e propria dittatura. Esattamente come Conte Grillo nei giorni scorsi che durante G7 volevano incontrare l'ambasciatore cinese in Italia. Poi siccome qualcuno probabilmente ha chiamato Conte, che è un cuor di leone, l'avvocato del popolo ha deciso di non andare dall'ambasciatore. Che coraggioso! Ma il dato è che la sinistra italiana, da quelli che si chiamano grillini, agli ex comunisti della sinistra portano sul palmo di mano la dittatura cinese. Forse perché è molto, molto, molto ricca. Tornando ad Alema, vi faccio sentire dalle sue parole che cosa ha detto l'ex premer italiano alla TV cinese. Nel corso di un periodo di tempo molto breve, ha compiuto uno straordinario salto verso la modernità, verso il progresso, che sicuramente rimane, è il grande merito storico del Partito Comunista. Io credo che la cosa più importante che la Cina è riuscita a fare è riuscita a fare uscire almeno 800 milioni di persone dalla povertà. Questo è un risultato straordinario. Mai nessun paese della storia dell'umanità è riuscito a realizzare una così immensa trasformazione della vita delle persone. Apprezzo anche quello che è avvenuto nel corso degli ultimi anni. Perchè c'è stato un impegno importante per cambiare il modello di sviluppo cinese. Soprattutto nel senso di uno sviluppo più compatibile con l'ambiente, più rispettoso dell'ambiente, di uno sviluppo più attento ai consumi interni. Avete sentito? Una roba da film luce. Una vera e propria celebrazione di un regime che ha causato un po' di problemini e forse non se ne sono ancorti a sinistra nell'ultimo anno. Prima tra tutti, purtroppo, la terribile pandemia, sulla quale ci sono molte indagini a livello internazionale perché qualcuno, chissà perché, ipotizza che proprio dal governo cinese si siano nascoste un sacco di informazioni che invece potevano salvare centinaia di migliaia di vite. Senza parlare poi dell'origine del virus, sulla quale ci sono molte polemiche riguardo ai laboratori di Wuhan e del governo sesso della Cina. Insomma, tutti questi personaggi della sinistra italiana, tutta pro diritti, pro ultimi degli ultimi, modello di D.L. Zan, forse non si sono accorti di promuovere un regime comunista dittatoriale nel quale la libertà di pensiero non esiste, i diritti dei lavoratori non esistono, e per insegnare per bene alle persone che la pensano diversamente come si devono comportare nei confronti del regime, utilizza campi di prigionia e rieducazione. Bella roba, D'Alema. Bella roba. Insomma, questi ex comunisti, ma in generale la sinistra italiana, è la quinta colonna del regime comunista cinese. Una dittatura pericolosa per il mondo e che proprio grazie al VTO, quello voluto da Clinton, Prodi, Blair, è diventata una potenza economica. Forse, per D'Alema e compagni, è meglio rivolgersi al miliardo di persone in Cina piuttosto che ai 60 milioni di italiani, perché a casa nostra, ormai, non li vota proprio più nessuno. Ciao.